Ultima edizione del nostro telegiornale. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. A Catanzaro i presidenti di Molise e Calabria invitano il governo a integrare i programmi del Fondo per la coesione e lo sviluppo e il PNRR. Solo così, hanno detto Donato Tome e Roberto Chiuto, le regioni del sud riusciranno a spendere tutte le risorse per la crescita. Giovanni Di Tota. L'occasione ghiotta è forse irripetibile, soprattutto il sud Italia che può trarre beneficio dai fondi europei destinati al piano di ripartenza per il dopo covid e in particolare le regioni più svantaggiate. Tra queste ci sono di sicuro Molise e Calabria che ora guardano al PNRR e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come a un'ultima spiaggia. Lo hanno sottolineato i presidenti delle due regioni Donato Toma e Roberto Chiuto durante l'incontro che si è svolto a Catanzaro all'apertura della campagna d'ascolto Uniamo l'Italia. L'obiettivo è quello di programmare gli interventi fino al 2027. Serve stabilire una cronologia dei progetti, ha dichiarato occhiuto, ma soprattutto la possibilità di integrare i due programmi in maniera da poter utilizzare le risorse in modo uniforme per garantire la crescita e lo sviluppo dei territori. Una posizione sulla quale ha insistito anche il governatore del Molise che ha invitato il governo a valutare questa possibilità perché, ha ribadito Toma, fondo di coesione PNRR sono due linee che devono essere complementari per realizzare gli obiettivi della crescita, soprattutto del mezzogiorno. Altrimenti, ha concluso il presidente del Molise, potremmo non essere in grado di spendere tutte le risorse che arriveranno. All'incontro hanno partecipato anche la ministra per il mezzogiorno Mara Carfagna e quello dell'economia Daniele Franco. Ora la palla torna nella metà campo del governo, ma è chiaro che, per restare nella metafora calcistica, che il compito di segnare il gol decisivo spetta alle regioni. Veniamo ora all'andamento del covid in regione. C'è una nuova vittima, una donna di 88 anni di Casa Calenda che era ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Il numero complessivo delle vittime sale così a 507. Diminuiscono tuttavia i casi, solo due su 359 tamponi processati per un tasso di positività che scende allo 0,5%. Gli attualmente positivi sono 251, mentre le persone ricoverate in ospedale sono 11, 10 in area medica e 1 in terapia intensiva. Dall'ultimo bollettino risultano anche 49 persone guarite. Il maltempo che ha colpito tutto il Molise negli ultimi due giorni ha creato danni e disagi, la situazione più critica lungo il corso del fiume Biferno. L'acqua ha seminato distruzione tra Castellino e Lucito con parte di un piazzale che è stato portato via dalla piena e un edificio danneggiato. Anna Maria Di Matteo. Pezzo di casa che se ne va, in diretta. La fragilità di gran parte del territorio molisano è racchiusa in queste immagini. Questo è il fiume Biferno, il territorio è quello compreso tra Castellino del Biferno e Lucito in corrispondenza della Bifernina al chilometro 40. La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta la scorsa notte sul Molise ha prodotto allagamenti un po' ovunque. La situazione in cui versa questo lembo di Molise è già critica, non da ieri, ma che a causa delle abbondanti piogge si è aggravato ulteriormente. Il fiume Biferno ha rotto gli argini e travolge tutto quello che incontra lungo la sua corsa. Tratti di strada, di asfalto letteralmente mangiati, divorati, una casa che viene giù un po' alla volta. Il sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, denuncia una situazione estremamente difficile che è destinata ad aggravarsi ulteriormente in occasione di nuove precipitazioni. Occorre l'intervento urgente della regione, ha detto ai microfoni di Telemulise. Servono fondi per la messa in sicurezza dell'intera area per evitare in pieno inverno danni ancora peggiori. Un appello che il sindaco rivolge dunque all'istituzione finché si intervenga prima che sia troppo tardi. I residenti guardano con preoccupazione l'addensarsi di nubi minacciose perché sanno che potrebbero portare nuova pioggia e con essa nuovi disagi. Le previsioni per i prossimi giorni purtroppo non promettono nulla di buono. Sull'operazione Gemelli Molise, Speranza ferma a Toma. Il ministro della Salute boccia l'ipotesi di Golden Power avanzata dal governatore. Va avanti quindi l'operazione col fondo svizzero Responsible Capital. Adesso l'ultima parola aspetta a Draghi. Pasquale Di Bello. Doccia fredda del ministro Speranza sull'ipotesi di acquisizione al patrimonio pubblico dell'ospedale Gemelli Molise. Il responsabile del Dicastero della Salute invia al governo un parere negativo sull'ipotesi di esercizio del Golden Power, ovvero sul diritto di veto all'operazione avviata dalla Cattolica col fondo svizzero Responsible Capital per l'acquisizione della struttura. Ad avanzare l'ipotesi di Golden Power era stato il presidente della regione commissario ad acta, Donato Toma, sostenendo la funzione strategica del Gemelli per il sistema sanitario regionale e la necessità di mantenere le specializzazioni presenti all'ex Cattolica e quindi servizi erogati insieme all'attività di ricerca strettamente connessa all'assistenza clinica. Speranza, pur riconoscendo la posizione strategica del Gemelli all'interno del sistema sanitario regionale, ritiene che l'operazione col fondo svizzero presenti elementi sufficienti a garantire il livello dei servizi e delle prestazioni attualmente erogati. Resta tuttavia da chiarire la questione del personale, altro tema forte sul quale Toma ha avanzato precise richieste di garanzia circa il mantenimento dei livelli occupazionali. Su questo il ministro Speranza non ha espresso indicazioni, ma sarà una delle questioni di rimenti per un esito positivo dell'operazione. Diversamente si aprirebbe l'ennesima vertenza e l'ennesimo conflitto sociale che andrebbe a sovrapporsi ai carichi che già gravano il sistema sanitario. Si riducono quindi al lumicino le possibilità per il progetto Toma, ovvero l'acquisizione al sistema pubblico del Gemelli Molise, che potrebbe essere recuperato in articolo Mortis solo da un intervento del premier Draghi. Cosa difficile vista l'assenza di sponde politiche di peso che possano sostenere la causa del Molise. Cartina di tornasole della sostanziale indifferenza governativa è la reiterata ipotesi dell'azzeramento del debito sanitario, più volte avanzata e più volte finita nel vuoto. Gli unici segnali che arrivano da Roma sono di colore rosso, segno cromatico abbinato ad una sola parola, stop. Ciò che invece va avanti con un verde perenne che dura da 14 anni è il tavolo a duce, quello costituito al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rientro dal debito sanitario. Una voragine che più passa il tempo e più si allarga, fatto che dovrebbe far riflettere il governo e a zerare i conti col Molise, come già fatto con la Calabria, ad esempio. Dalle 14 di domani, venerdì 10 dicembre, alle 14 di lunedì 13 sarà sospesa l'attività di prenotazione delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali presso tutti gli sportelli ASREM Call Center, medici di medicina generale, farmacie e comuni. A comunicarlo il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, la sospensione spiegalente si rende necessaria per permettere l'avvio di una nuova piattaforma informatica a partire dal 13 dicembre che gestirà il nuovo sistema regionale di gestione delle prenotazioni sanitarie con i correlati servizi di Call Center, Front Office e Back Office. E continuiamo a parlare di sanità. Isernia deve fare i conti con una guardia medica funzionante a giorni alterni. Nei giorni di stop, gli sernini dovranno rivolgersi alle guardie mediche dei paesi del circondario. Una situazione paradossale. Stesso inconveniente anche a Capracotta e qui il sindaco si è già fatto sentire. Enzo Di Gaetano. Oramai il problema delle chiusure delle guardie mediche sta investendo come l'ennesimo tsunami la sanità molisana. L'ondata, dopo aver travolto diversi presidi del basso Molise, ora è arrivata fino alla provincia di Isernia provocando lo stop dei servizi di continuità assistenziale nel capoluogo e a Capracotta con il sindaco Paglione che già si è fatto sentire mentre ancora nessuna notizia di Piero Castrataro. Ma speriamo che al più presto arrivi anche la sua voce perché è assurdo quello che sta accadendo in un capoluogo di provincia. Gli isernini che hanno bisogno di un medico ora dovranno emigrare e rivolgersi per i problemi urgenti alle guardie mediche dei comuni di Macchia di Isernia, Sessano del Molise, Cantalupo e Civitanova del Sannio. Non è uno scherzo ma la verità nuda e cruda. Un capoluogo di provincia che resta senza guardia medica è una situazione incommentabile. È la stessa azienda sanitaria regionale che con un avviso comunica che per 14 giorni il servizio non potrà essere regolarmente garantito nella sede operativa di Isernia in quanto attivo solo in alcune fasce orarie. Nel dettaglio lo stop riguarda il turno dalle 8 alle 20 dei giorni 13, 14, 15, 16, 17 e 19 dicembre. Il turno dalle 20 alle 8 dei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 dicembre. Per il turno dalle 8 alle 20 i giorni 27, 28, 29 e per il 31 dicembre il turno dalle 8 alle 20. Gli Isernini in quei giorni e in quegli orari potranno farsi seguire dai sanitari delle guardie mediche di Macchia, Isernia, Sessano, Cantalupo e Civitanova ma non finisce qui. Infatti il distretto sanitario di Isernia ha comunicato al Comune di Capracotta che dalla seconda settimana di dicembre saranno scoperti, cioè privi di medico, ben sei turni di guardia medica. Una cosa inaudita, afferma senza mezzi termini Candido Paglione, possiamo immaginare cosa significhi non avere la disponibilità del medico per un ambito territoriale di continuità assistenziale come il nostro. A questo si deve aggiungere il fatto, prosegue il Sindaco, che Capracotta si sta preparando per affrontare al meglio la stagione turistica invernale che rischia però di partire con i peggiori auspici. L'ospedale di Agnone, completamente depotenziato e una sanità territoriale sempre più impoverita di servizi essenziali. In ultimo, ma non per ultimo, la considerazione che a Capracotta esiste una casa di riposo per anziani con ben 42 ospiti presenti che hanno diritto almeno alla continuità assistenziale. Siamo stanchi, chiude Paglione, di assistere alla distruzione quotidiana dei nostri diritti, anche di quelli più semplici. Cambiamo argomento, il caso Maresca indica che serve subito una nuova legge, a dirlo in un'intervista alla Repubblica, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini. Catello Maresca, consigliere comunale a Napoli e giudice a Campobasso, non è certo il primo caso, sottolinea Ermini. Ce ne sono diverse in Italia di situazioni simili. Si è sempre parlato delle porte girevoli dal Parlamento agli uffici giudiziari, ma non si è mai affrontato il tema ben più diffuso dei giudici impegnati nella politica locale. Per Ermini è chiaro che il legislatore deve intervenire sia a livello nazionale che locale. Quanto al caso Maresca, afferma, il Consiglio ha semplicemente applicato la legge in vigore per la quale bisogna contemperare due diritti del magistrato, quello di rientrare nella propria funzione giudiziaria e quello di svolgere il proprio ruolo politico. Domani sciopero generale della scuola indetto da CGL, Will, Gilda e Snals. Nicolino Fratangelo, segretario regionale della Will Scuola, ha spiegato i motivi della mobilitazione. Tonino Danese. CGL, Will, Gilda e Snals hanno rotto gli indugi e per domani, 10 dicembre, hanno proclamato una giornata di agitazione sindacale. Protestiamo, hanno detto, contro l'immobilismo del governo sull'istruzione, sulla scuola. La manifestazione generale a Roma, a cui aderiscono anche altre sigle. Delegazioni partiranno pure dal Molise. Sono stati diversi i tentativi di conciliazione, ha detto Nicolino Fratangelo, segretario regionale della Will Scuola, diverse le richieste al governo di mantenere gli impegni assunti, ma non sono stati rispettati. Nella legge di stabilità non vi è alcuna risposta, c'è l'annosa questione degli stipendi dei docenti, ha spiegato, elencando le motivazioni dello sciopero. Si parlava di rinnovo a tre cifre, la proposta non prevede questo, siamo molto, molto inferiori. Vi dico anche che nell'ambito del pubblico impiego vi è una spereguazione tra tutto il personale. Il personale scolastico ha una perdita rispetto all'altro personale pubblico di oltre il 14%. Parliamo di 300 euro al mese in meno che il personale della scuola perde rispetto a altri comparti del pubblico impiego. Fratangelo ha poi parlato del precariato. Se non abbiamo un organico stabile, ha detto ancora, non c'è continuità e nemmeno qualità. Nessuna risposta nemmeno sulle classi troppo numerose. C'è poi l'organico Covid, per cui non ci sono finanziamenti. Finanziamenti, per proseguire, occorre riconoscere il lavoro degli amministrativi, così come per i collaboratori scolastici ci vuole chiarezza sul loro futuro. Infine, la questione contratti. Vogliamo il ripristino delle relazioni sindacali, vogliamo il riconoscimento dei lavoratori della scuola e che ricordiamoci la scuola statale è frequentata al 94% degli alunni italiani. È una scuola che è apprezzata in Italia. Da una classifica stilata dal quotidiano economico ha detto che la scuola è al terzo posto come indice di gradimento nel paese. Però questo gradimento non ha un riconoscimento da quello che è il nostro datore di lavoro, che è lo Stato. Condannato a tre anni, cinque mesi e dieci giorni, il pedofilo sessantenne che nel 2018 abusò sessualmente di un 14enne a Boiano. La sentenza è emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso, presidente Pupilella. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Fabio Del Vecchio, ha anche ottenuto una provvisionale da 10.000 euro. Domani sera alle 20.10 al Coriolis di Ripalimo Sani, la settima edizione di Telemolise nel cuore. L'evento che sarà trasmesso in diretta sulla nostra emittente è stato organizzato e curato dal direttore della testata giornalistica sportiva di Telemolise, Antonio Di Lallo, che abbiamo intervistato. Sentiamo. Torna Telemolise nel cuore. L'evento organizzato e curato dal direttore della testata giornalistica sportiva di Telemolise, Antonio Di Lallo, insieme alla sua redazione, l'appuntamento domani sera a partire dalle 20.10 al Coriolis di Ripalimo Sani, trasmesso in diretta su Telemolise, ospiti, musica, ma non solo nell'ottica di valorizzare la molisanità. Sarà una situazione covid free. Perché? Perché ci vuole il super green pass all'ingresso, oltre che una dichiarazione che faremo firmare noi a tutti coloro che interverranno evidentemente per motivi di sicurezza, oltre che le cose normali come sanificazioni, eccetera. Settima edizione, abbiamo ripreso nel 2014, perché prima avevamo fatto tra l'88 e il 94, otto edizioni, nove edizioni degli Oscar di Telemolise, con artisti di assoluto spessore, ricordomi a Martini, Fosso Leali, Ron ed altri. Da sette anni abbiamo ripreso e sono tre anni che abbiamo anche una special guest. Tre anni fa c'è stata Silvia Mezzanotte, due anni fa Edoardo Vianello, e quest'anno, domani sera, ci sarà Johnson dei Righiera, accompagnato da due coriste di Padova. Molti artisti molisani, avremo due gruppi rigorosamente molisani, una cantante, i due gruppi si chiamano Impronte Digitali e Evergreen, una cantante originaria di Torella del Sannio, che si chiama Vittoria Iannacone, bravissima, lo vedrete domani sera, poi avremo un atleta che si esibirà in una pole dance, e quindi avremo anche Simone Sala, oltre che un giovanissimo talento molisano, pianista, bravissimo, che ha 16 anni. L'obiettivo di questa manifestazione è anche quello di valorizzare il territorio. Certamente, cioè noi proponiamo artisti solo molisani, che ci tengo a sottolinearlo, si sono esibiti e si esibiscono gratis. Vorrei ringraziare evidentemente anche Guindino Pallanti, il nostro editore, Manuela Petescia, con la quale c'è sempre un rapporto di simbiosi veramente particolare, e quindi tutta la struttura, perché insomma hanno già cominciato a lavorare alla cremente, e quindi fino a domani lavoreranno veramente tantissimo i nostri collaboratori, i nostri tecnici, insieme a due service, che sono Music Service di Busso, anche questi rigorosamente molisani, e DAG Service di Ripalimosani. E con l'Immacolata Concezione ha preso avvio il periodo natalizio. Tanti gli eventi e le iniziative in giro per la regione, le città in particolar modo, le strade principali, si colorano di luci e addobbi. Siamo andati in Piazzetta Palombo, a Campobasso, dove gli artigiani lamentano di essere abbandonati. Da noi hanno detto la magia del Natale sembra non arrivare. Sentiamo Alessandra Potena. L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, apre ufficialmente il periodo natalizio. Luci, alberi di Natale e addobbi rendono magiche le città che si vessono a festa. A Campobasso, come ogni anno, le vie principali del centro cittadino sono adornate da luci e colori. Questa è Piazzetta Palombo, poco distante dal corso principale, dove da anni sono aperte le botteghe di artigiani e obbisti. La storica piazza, nei secoli scorsi, era il cuore del mercato cittadino, un luogo di incontro nel quale acquistare prodotti locali e scambiare due chiacchiere. Un posto in cui la magia del Natale è pressoché assente, però, ci dicono gli artigiani, che vi hanno le botteghe. Poche sono aperte, raccontano, non ci sono persone a passeggio. Nonostante questo, nei loro occhi c'è la voglia di riscatto. La situazione è in Moscia. Campobasso è una bella città e le persone però preferiscono stare a casa. Quindi aspettiamo un po' di turisti, se il Natale porta bene. Invitiamo le persone che guardano troppo la televisione ad uscire, a prendere una bocca da dare, a farsi una passeggiata qui, e venire a vedere le vetrine che sono addobbate. Quindi, diciamo, noi abbiamo fatto il possibile per ricreare il tema del Natale. E poi, che dire, siamo in braccio alla provvidenza. Abbandonati è una parola, diciamo, bella e pure grossa, perché poi ognuno si abbandona a se stesso. Quindi non è che possiamo reclamare qualcosa dalle istituzioni, perché tanto sappiamo che ormai ognuno deve, come disse Rambo nel film, come verrai Rambo giorno per giorno, quindi ognuno deve provvedere per sé. Ieri mattina abbiamo visto un po' di passeggio, ieri poi nel pomeriggio, con il brutto tempo, pochissimo, poco poco. Non ci resta che sperare, concludono, affinché venga dato il giusto lustro alla piazzetta e venga valorizzata per far sì che torni, come un tempo, a splendere. Ieri mattina abbiamo aperto, c'eravamo un po' tutti abbastanza bene, c'è stato movimento. Poi ovviamente qui basta un po' di freddo, un po' di pioggia, che comunque ieri ha piovuto nel pomeriggio, quindi sicuramente la cosa è rallentata. Molte botteghe sono chiuse, ma molte botteghe sono affittate a degli obbisti, quindi ovviamente gli obbisti non hanno interesse a venire ad aprire tutti i giorni, perché evidentemente fanno altro, noi invece siamo qui perché questo è il nostro lavoro e quindi ci siamo tutti i giorni, tranne la chiusura del lunedì. Sicuramente la pandemia ha cambiato molte cose, la gente ha ancora molta paura e ha incentivato la vendita online. Ed ora andiamo ad Agnone, dove l'Andocciata è tornata ad infiammare, nel vero senso della parola, le strade del paese, anche se in una versione ridotta e alternativa. Vediamo com'è andata con Enrico De Simone. Sindaco Daniele Saia, quest'anno si è deciso di proporre un'edizione simbolica dell'Andocciata, quindi un passo avanti rispetto all'anno scorso, quando l'Andocciata è stata completamente annullata. Quali obiettivi per il futuro e in cosa consiste questo protocollo d'intesa fra i vari riti del fuoco del Molise? Sì, l'intenzione era quella di farla, non ci siamo riusciti l'8 dicembre, quindi l'intenzione è quella di ridare un minimo di vitalità, sperando di poterla fare leggermente più grande il 24 dicembre. L'obiettivo per il futuro è chiaramente tornare a quella normalità e di rendere il mese di dicembre il mese dei fuochi qui ad Agnone. Proprio per questo si va a siglare oggi un protocollo d'intesa con alcune comunità molisane che hanno un rito dei fuochi tradizionale, che appunto sono Oratino con La Faglia, Civitanova con l'Indocce di Faggio, Monte Falcone con le Farchie e Civitanova con l'Andoccia di Canna. Quindi partiamo con questi comuni, speriamo di ampliare questa offerta in modo da poter candidare i nostri riti dei fuochi come patrimonio dell'UNESCO. Avvocato Giuseppe Marinelli, presidente dell'Associazione Landocciata, quest'anno il Covid non ha spento completamente le fiamme dell'Indocce e anzi si pone la base per un futuro ancora più rafforzato di questi riti del fuoco con la firma di un protocollo d'intesa fra i vari comuni molisani legati dal fuoco. Sì, certamente non si spegne l'entusiasmo, non si spegne l'impegno. Ci sarà questo protocollo d'intesa con gli altri comuni per appunto progettare una settimana di fuoco in Agnone per ridare quindi speranza, diciamo, un momento di rinascita per questa situazione che ci ha impedito di oggi realizzare la docciata famosa l'8 dicembre. Signora Mara Di Pietro, una figurante della docciata, quest'anno l'evento in forma più ridotta, quali emozioni sta suscitando? Le emozioni sono tante, comunque per noi l'andocciata è una cosa molto forte e non poterla realizzare ci toglie il brio, diciamo, ci spegne un po'. Però cerchiamo stasera con questo piccolo simbolo che cerchiamo di ricreare in Largo Sabella e lungo la scalinata a Bonarroti di ridare un po' di luce e di vita a questo grande evento a cui noi siamo molto molto legati. Ed è stato inaugurato a Disernia in piazza 10 Settembre l'albero della Felicità, alto 5 metri e 40, e addobbato con oltre 600 merletti realizzati a Tombolo. Valeria Migliore. Non sono palline ma merletti, ecco come è stato addobbato l'albero di Natale a Marchiopentro inaugurato ieri pomeriggio a Esernia in piazza 10 Settembre. Si chiama Albero della Felicità, è alto 5 metri e 40 e conta più di 600 merletti a Tombolo realizzati dalle 250 merlettaie volontarie che per più di un anno hanno lavorato al progetto. soddisfatta del risultato ottenuto e del successo dell'evento, Carmela Iavarone, presidentessa dell'associazione Il Merletto di Isernia, l'arte nelle mani. È stata una grande impresa, ce l'abbiamo fatta, perché poi abbiamo avuto tanti problemi, tante difficoltà anche a unire i merletti. Devo dire la verità, sono state tre ricamatrici bravissime che si sono messe per tre mesi a legare tutti quei merletti e far riuscire che l'albero stasera si accendisse. Appuntamento non solo con il Natale dunque, ma con l'antica tradizione del Tombolo che dà lustro all'intera provincia di Isernia. Il Merletto rappresenta anche il fil rouge che unisce Isernia a Longano, le cui donne per l'occasione hanno indossato gli abiti da sposa del Novecento adornati proprio con le creazioni isernine. Presenti all'evento anche molti sindaci della provincia che hanno riconosciuto l'importanza di una iniziativa che potrà essere un vero volano di sviluppo del territorio partendo dal recupero della tradizione. Stiamo investendo molto a livello regionale, a livello di assessorato proprio per far viaggiare quello sviluppo economico attraverso proprio il turismo e la cultura. Il bando turismo è cultura e va in quella direzione. Isernia perde una icona storica. La Fiera delle Cipolle era una presenza fissa la signora Maria Battista Di Pilla, mamma del nostro collaboratore Carmelo Di Pilla, è venuta a mancare all'età di 96 anni. Una grande lavoratrice che con il suo banco quotidiano nel centro storico di Isernia offriva i suoi ortaggi al nostro collaboratore, ai suoi fratelli e familiari, le condoglianze da parte della redazione di Telemolise, dall'editore Quintino Pallante, dalla direttrice Manuela Petesce. i funerali domani, venerdì 10 dicembre, alle 11 nella cattedrale di Isernia. Parliamo di teatro. Da oggi a domenica il Teatro dell'Otto di Ferraziano va in scena l'asino di Hall. Enzo Luongo ha incontrato il direttore artistico del teatro Stefano Sabelli, che è anche protagonista dello spettacolo. Sentiamo. Due grandi attori per un piccolo grande spettacolo. Così il Corriere della Sera, con le parole del decano dei critici italiani Franco Cordelli, ha elogiato lo spettacolo l'asino di Halle, dopo la prima mondiale ad Asti Teatro. Ora l'ultima produzione del Teatro dell'Otto debutta in casa a Ferraziano, in scena da oggi a domenica. È un testo di Jan Jasperalle, autore norvegese della mia età, ha 65 anni, premio Ibsen, che è il più importante premio di drammaturgia di tutta la Scandinavia in realtà. L'asino è una dark comedy, un serato dialogo fra un ruolo femminile realistico e uno maschile evocativo. Un incontro scontro che finisce in una rappresentazione sarcastica della società norvegese contemporanea, mentre emergono le voci di dentro di una donna comune, il lato oscuro della sua vita. È uno spettacolo assolutamente divertente, commovente, perché c'è tutto dentro, c'è proprio un modo, è una dark comedy se vogliamo, che ovviamente indaga la società borghese media della Scandinavia, ma che ho con tanti riflessi anche per quello che riguarda la nostra contemporaneità occidentale in genere. Ci sta un altro personaggio insieme a me e Anna Paola Velaccio, io che interpreto la voce, e Anna Paola Velaccio che interpreta il personaggio di Cari, che è Arianna Sannino, che è una giovane cantante straordinaria in scena con noi e che ha il ruolo doppio di figlia e di commentatrice attraverso delle canzoni di quello che sta avvenendo in scena. Poi ci sono le scenografie meravigliose, ma davvero meravigliose, di Kezia Terracciano, che è un'artista visiva che lavora con Cole Biro, ma compone degli universi assoluti di disegni e di cosmologie incredibili, lo spettacolo dura un'ora, ma la scena cambia circa 40 volte, per intenderci come è tutto l'impianto visivo dello spettacolo. Naturalmente va citata la bellissima regia che ha fatto Gianluca Jumiento, che per dieci anni ha diretto l'Accademia d'Arte Drammatica in Norvegia, adesso è tornato in Italia, diventerà il nuovo co-direttore artistico del Loto, mi affiancherà nella direzione artistica del Loto e siamo ben felici e questo è il primo tassello di una cosa che stiamo cercando di fare a Loto. A Loto stiamo cercando di internazionalizzare non solo la nostra proposta, ma anche tutte le collaborazioni. E adesso chiudiamo con delle bellissime immagini che arrivano da Larino, successo per l'inaugurazione ufficiale delle luminarie magia di luci realizzate dall'associazione Larino nel cuore. L'evento che prosegue anche nei prossimi fine settimana e nei giorni di festa rientra nel cartellone di turismo e cultura della regione. Vediamo allora in questa clip alcune delle immagini più belle dell'evento. Grazie a tutti. Ed è tutto anche per quest'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci preferito. A tutti voi una cordiale buonanotte. Grazie. Grazie.